Sicuramente positivo, perché intanto abbiamo vinto, quindi è stato positivo anche perché non è stata facile, eravamo in dieci dal primo tempo, siamo riusciti a trovare il gol nel secondo e siamo riusciti a tenerla bene, tenere il vantaggio che non era una cosa facile, quindi sicuramente positivo anche in una ottica playoff, ora ci proviamo per forza. Quindi non è più un sogno, non è più una chimera, ma potrebbe essere qualcosa di più tangibile a questo punto? Potrebbe, ma è ancora una partita, noi ci proviamo, poi quel che viene, viene, vediamo. Quindi pienamente recuperato, anche per domenica sarai a disposizione del mister? Sì, sì, ora mi sono nata tutta la settimana, sono stato bene, anche oggi sono stato bene, sicuramente credo di essere a disposizione anche per la prossima. Ha influito comunque questo infortunio sotto il punto di vista fisico nel tuo rendimento della partita di oggi? No, di oggi no, non credo, perché mi sono sentito bene, come ho detto anche in settimana, la settimana scorsa ho fatto un paio di allenamenti nel fine settimana, ma non stavo ancora benissimo, non mi sentivo bene la gamba e allora abbiamo preferito comunque aspettare e recuperare questa settimana, questa settimana invece l'abbiamo fatta piena, l'ho fatta piena e tenendomi curato non ho avuto problemi.